Siamo ancora tutti con il fiato sospeso per l'esito delle ricerche che proseguono senza sosta. Due persone mancano all'appello, il piccolo Mattia Lucconi di 8 anni e Brunella Chiù. Siamo sui territori anche per seguire le attività di pulizia delle strade da parte degli uomini della protezione civile che stanno offrendo assistenza alle popolazioni colpite dall'alluvione che ha davvero distrutto diversi centri del Senigallese e della provincia di Ancona. Andiamo allora, abbiamo i nostri inviati Thomas Delbianco e Daniela Gurini che ci fanno il punto della situazione per capire un pochino come si sta procedendo in queste ore. Vediamo se possiamo avere da loro le ultime notizie. Thomas, buongiorno. Daniela, buongiorno. Thomas. Buongiorno Stefania, buongiorno a te. Siamo in questo momento nella piazza centrale di Cantiano, piazza Luceoli, che è stato il punto picco dito di giovedì sospeso nella quale sono arrivate quelle immagini che hanno fatto il giro e non solo, soprattutto nelle prime maltempo d'acqua con le auto che galleggiavano, che è nel punto più basso qui del territorio di Cantiano. Mi trovo nella zona tra il comune e la chiesa, il bar del trale di piazza Luceoli, il caffè centrale che pensate aveva appena aperto dopo una nuova inaugurazione in agosto e da settimane c'è stato successo quello che è successo e pensate che nel giro di poche ore, dalle 17 alle 21, questa zona è scesa di pioggia, di precipitazioni l'equivalente di sei mesi, oltre 400 metri di pioggia. Questo è la portata dell'evento che si è verificato, sono passati 5 giorni da quei momenti, il fango, tanto fango ancora c'è però bisogna avere tanto fango, questo fango è stato portato via, è stato sparato grazie al lavoro incessante dei volontari che sono arrivati davvero nei primi momenti, nei primi due giorni, soprattutto dalla zona della provincia di Pesaro Urbino, mandati in gruppi organizzati dagli altri comuni, penso alla protezione civile di Pesaro come di Gradara, ma anche altre associazioni che hanno inviato persone e anche dalla vicina Umbria perché cantiere sì nella provincia di Pesaro, però siamo nel territorio prossimo dopo pochi giorni con l'Umbria siamo vicini a Gubbio e quindi sono arrivati anche persone tante dall'Umbria, ma questi giorni stanno arrivando anche volontari da altre parti di Tino, Tino ha incontrato alcune, sono i ragazzi, i ragazzi che si sono fermati qua per tre giorni, arrivati da Viterbo. Anche per quanto tempo, Tino sta cercando di tornare a normalità e bui tornare a prima, bui tornare a prima l'alluvione. Thomas, se posso rientrare per favore perché vorrei ottimizzare il collegamento, ci torneremo tra pochissimo. Intanto chiedo alla nostra regia se possiamo preparare le foto delle vittime perché sono 11 quelle attualmente accertate. A partire da Noemi Bartolucci, 17 anni, studiava scienze umane a Senigallia, aveva la passione per la chitarra e il canto. Si trovava nel suo paese Barbara dove c'è la nostra Daniela Gurini, con cui tra poco ci ricollegheremo quando l'ondata l'ha sorpresa mentre era in auto con la mamma che risulta dispersa. Parliamo proprio di Brunella Chiù, la donna che si sta cercando, oltre a Mattia Luconi, il piccolo di 8 anni che ancora non si trova. Tornando però ai nomi e ai volti delle vittime, oltre a Noemi Bartolucci, 17 anni, c'è Diego Chiappetti di 51 anni. Eccola qui, bellissima Noemi. Questo invece è Diego Chiappetti, 51 anni. Anche lui come Giuseppe Andrea è stato ucciso dall'acqua e dal fango in garage, idraulico, con la passione per le moto. Secondo le ricostruzioni era sceso nel locale semi-interrato. Altra vittima, Andrea Tisba, 25 anni, laureato in ingegneria. Era un calciatore per passione nell'ostracalcio. In terza categoria è stato trovato in garage o fuori dall'auto aperta. Forse era giunta per aiutare il padre. E Giuseppe Tisba, il suo papà di 65 anni, anche lui non ce l'ha fatta a Pianello d'Ostra. La quinta vittima è Fernando Livi, di 82 anni, abitava in una casa col semi-interrato vicino al fiume Pianello e di fianco al ponte che attraversa il fiume Misa. Vivendo in un piano leggermente semi-interrato rispetto all'altezza della strada, è stato ritrovato morto dentro l'abitazione. Altra vittima è Michele Bonprezzi, 47 anni, è proprio uno dei primi dispersi che poi è stato purtroppo ritrovato senza vita, come Erina Febbi, 77 anni, originaria di Monte Carotto. Le altre quattro vittime sono Mohamed Enai, 42 anni, un cittadino italiano di origine marocchina, Maria Luisa Sereni, ottantenne, deceduta a Trecastelli, Gino Petrolati, 89 anni, Augusto Montesi, 82 anni, il cui cadavere è stato ripescato proprio nel fiume Esino. Andiamo dalla nostra Daniela Gurini, che da Barbara ci fa il punto della situazione. Buongiorno Daniela, eccoci di nuovo con te, presentaci il tuo ospite. Buongiorno Stefania, di nuovo. Sono con l'ingegner Pierpaolo Patrizietti, comandante dei vigili del fuoco di Ancona, del comando provinciale, ed è arrivato proprio adesso. Qui si avvicendano uno squadro, ovviamente il comandante sta facendo il giro. Qual è il punto della situazione visto che è appena arrivato? Noi stiamo operando continuamente con tutto il dispositivo messo in atto. Abbiamo 260 persone con vigili del fuoco complessivamente. Io arrivo da Ancona e faccio giornalmente la mia verifica a tutti i posti di comando avanzato, Sassoferrato, Barbara, Ostra e Senigallia. Chiaramente le problematiche sono diverse. Barbara, prioritariamente cerchiamo i dispersi, purtroppo ancora non abbiamo risultati positivi. Per il resto stiamo dando il massimo per soddisfare le esigenze della popolazione. Comandante, questo è un paese che ovviamente è stato colpito al massimo. Sì, solo un secondo perché vado a salutare Tommaso Pierfederici. Dato che si è parlato anche di danni. Lo ha fatto ieri proprio il presidente della regione Acquaroli sottolineando come vi siano danni per miliardi nella regione, specie appunto in questi territori flagellati dall'alluvione, danni per miliardi. Parliamo anche delle piccole e medie imprese che sono il tessuto dell'economia marchigiana. Buongiorno Pierfederici, mi sente, mi vede? Chiedo se è in collegamento, altrimenti... Dalla nostra Daniela Gurini, tra poco sentiremo appunto anche le parole di chi gestisce un'impresa e ha perso davvero moltissimo, subendo danni notevolissimi da questa alluvione. Daniela, torno da te. Sì, eccoci. Sì, credo che anche il comandante dei Vigili del Fuoco abbia ricevuto tante richieste anche dagli imprenditori, dalle piccole e medie imprese che sono state colpite, oltre che ovviamente dalle vittime, dalle persone che hanno subito. Noi riceviamo le richieste provenienti dai centri comunali di coordinamento, nonché le richieste che pervengono direttamente ai posti di comando avanzato. Vorremmo evadere tutte, ma adesso non riusciamo a soddisfare i bisogni. Sicuramente stiamo facendo il massimo e lo faremo ancora per i prossimi giorni. Comandante, sono arrivati, lo stiamo dicendo, ricordando sempre, ripetendo, è imponente l'arrivo di forze dell'ordine da tutte le regioni d'Italia? Voglio sottolineare il massimo coordinamento, la massima collaborazione con tutte le componenti della protezione civile. In questa emergenza veramente il sistema, diciamo, che trova la sua coesione di fronte a questa situazione veramente emergenziale. Ingegnere, è stata fatta più volte la richiesta, magari la domanda che è partita anche dalla stampa, anche in conferenza stampa che c'è stata ieri sera con il presidente della regione Marche, Francesca Quaroli, con gli assessori, Aguzzi e anche gli ingegneri della protezione civile e vigili del fuoco. L'arrivo dell'esercito è auspicabile o ormai siete già ben strutturati? Questa non è una scelta che compete chiaramente ai vigili del fuoco. Diciamo che noi attualmente collaboriamo con la protezione civile che è arrivata in forze e sta operando in forze. Non solo poi con la protezione civile. Ancora per un istante resta collegata con noi, per favore, perché... Beh, quello lo abbiamo per scontato, insomma. Quello lo abbiamo per scontato sempre. Grazie. Dicevo, Daniela, se puoi restare collegata ancora... Congeniamo magari il comandante, così abbiamo un altro ospite. Congeniamo il comandante in attesa del prossimo ospite. Rimani pure in collegamento con noi. Daniela, torno da te tra un attimo. Saluto Tommaso Pierfederici. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che tipo di attività è la vostra? Se può però fermarsi senza camminare perché ho paura che poi il collegamento non sia stabile. Se ci spiega un attimino che tipo di attività è la vostra e dove vi trovate? La nostra è un'attività locale che opera nel settore del commercio di materiali edili e arredo bagno. Siamo un'attività presente nella zona da più di 50 anni e ad oggi ci troviamo in una situazione molto critica per quello che sono gli effetti dei risultati dell'alluvione. Dove è situata l'azienda? A Senigallia, in provincia di Ancona. Mi spiega un attimino che cosa è accaduto quella notte? Mi può raccontare un po'? Purtroppo siamo stati avvisati della piena che stava arrivando a Senigallia e nel giro di 10 minuti siamo stati inondati, tutte le nostre sedi sono state inondate e abbiamo avuto dei danni comunque di grande entità, circa un metro d'acqua dentro i nostri magazzini edili, quindi una situazione molto critica. Non siete riusciti a mettere in sicurezza tutto il materiale che era stipato in magazzino? Non c'è stato il tempo, immagino? No, assolutamente, stiamo parlando di un magazzino di circa 20 mila metri quadrati, quindi tutto il materiale che era situato nelle prime scaffalature a piano terra è tutto materiale deteriorato da buttare, quindi stiamo andando avanti sulle nostre forze e purtroppo cercheremo di riprenderci il prima possibile. Qual è il sentimento prevalente? Sconforto, rabbia? Sicuramente sconforto e anche rabbia perché dopo 8 anni dall'alluvione che ha inondato Senigallia sicuramente questo evento si è ripetuto e c'è anche preoccupazione che si possa ripetere in futuro, però ad oggi l'obiettivo è quello di ripartire il prima possibile sempre con le nostre forze perché di aiuti ne stanno arrivando veramente pochi. Siete riusciti a fare, stanno arrivando ancora pochi aiuti ci dice, siete riusciti a fare una prima stima dei danni? Ecco, in che ordine siamo? Ancora su questo fronte ci stiamo muovendo anche con i vari consulenti per la stima di tutti i danni che le nostre sedi hanno avuto, però stiamo parlando comunque di danni di grossi importi, ecco, non posso ad oggi fornire una stima esatta di quello che sarà diciamo tutto il materiale da buttare e da riordinare. Tra l'altro stiamo vivendo anche una fase difficile per il reperimento di alcuni tipi di materiali per via di tutti quelli che sono gli effetti dovuti dal conflitto e quindi dalla crisi energetica e quant'altro, per cui un ulteriore tegola ad un momento già di per sé non così facile, per le edilizie intendo. Assolutamente, assolutamente, stiamo parlando di materiali comunque che erano arrivati ad avere un tempo di approvvigionamento anche circa tre mesi, aumenti di listino che erano all'ordine del giorno, rincari energetici, quindi siamo davanti ad una situazione veramente, veramente critica e purtroppo solamente il tempo ci dirà quando potremo ripartire. La solidarietà anche dei, non so, soci o persone, volontari? Assolutamente, sicuramente ha fatto molto piacere vedere i ragazzi del territorio che hanno dato una grossa mano e che tuttora lo stanno facendo e ovviamente ogni giorno riceviamo conforto e aiuti da parte delle persone locali, però sicuramente non è abbastanza e non è sufficiente. Cosa vi aspettate a questo punto dalle istituzioni? Sicuramente ci aspettiamo un aiuto sia in termini economici che, non lo so, guardi, in termini economici nel senso abbiamo avuto dei grossi danni e quello che sicuramente ci aiuterà in futuro sarà il fatto di poter prevenire che questi eventi possano accadere ancora. Io la ringrazio per questo collegamento perché immagino che non sia un momento facile, avrete molto da fare, quindi però è il nostro dovere e volontà soprattutto tenere alta l'attenzione anche su questo fronte, cioè quello che riguarda le imprese e quindi tutto il tessuto economico del territorio fagellato dall'alluvione che ha subito notevolissimi danni, di questo ovviamente se ne parlerà ancora per molto. Celerità e meno burocrazia, mi sembra che siano questi i filoni, ecco ciò che chiedete. Grazie ancora Tommaso Pierfederici, grazie davvero, grazie ancora. Torno a questo punto dalla nostra Daniela Gurini che si trova a Barbara, ci ha fatto il punto della situazione con gli uomini della protezione civile che si stanno spendendo davvero anime e corpo in queste ore con un lavoro che non cessa neanche per un secondo, onde poter dare notizie delle due persone disperse. Si cercano ancora Mattia Luconi di otto anni e Brunella Chiù, la mamma di Noemi morta nell'alluvione davanti gli occhi di suo fratello. Io vorrei tornare appunto dalla nostra Daniela per concludere un pochino il quadro della situazione per quel che riguarda le attività di soccorso in essere questa mattina. Daniela. Sì, eccomi, nel frattempo ho cambiato ospite, abbiamo, voi lo conoscete sicuramente, Danilo Dionisi, capo dei Vigili del Fuoco, capo squadra di Vigili del Fuoco che si occupa della comunicazione di emergenza e quindi andiamo subito anche con te a fare il punto della situazione ma soprattutto delle forze in campo quest'oggi, quinto giorno. Sì, per quel che riguarda, parliamo di forze in campo, per quel che riguarda la ricerca delle persone che ancora mancano all'appello, dei soli Vigili del Fuoco abbiamo in questo momento 47 unità suddivise fra sommozzatori, squadre di ricerca a terra, abbiamo poi il supporto dell'elicottero dall'alto, gli uomini del GOS, il gruppo operativo speciale che movimentano mezzi movimento terra e i, chiamiamoli tra virgolette eronisti con il nucleo SAPR che dall'alto cerca comunque di individuare alcune zone, ci sono poi i TAS al lavoro di cui avete parlato nel collegamento precedente e tutti gli uomini sul campo stanno seguendo le direttive che sono state date appunto dagli addetti alla topografia applicata al soccorso con la zonizzazione di tutta la zona, perdonatemi il gioco di parole, intorno al torrente Nevola. Ecco, dovete capire Stefania che praticamente oltre alla parte ovviamente operativa, la sede centrale della protezione civile dei Vigili del Fuoco che si trova ad Ancona e che è coordinata anche con la regione, con i vari assessori. Questa è proprio la sede operativa da dove vengono smistate tutte le squadre di tutte le forze dell'ordine che da Barbara, cuore, centro di tutto l'alluvione, poi partono per andare ogni dove. Sì, qui c'è, l'avrete visto nelle immagini, l'unità di comando locale da dove parte tutta l'organizzazione di queste ricerche e il coordinamento chiaramente affidato in questo caso ai Vigili del Fuoco può avvalersi di tutte le altre forze in campo, dei cinofili che non sono unità proprio dei Vigili del Fuoco ma arrivate da altri paesi e anche i sommozzatori dei Carabinieri della Guardia di Finanza con cui stiamo lavorando per la ricerca proprio sul torrente Nevola, stiamo facendo questa ricerca che vi spiegavano prima, collaborando con tutti i sommozzatori in campo, di tutte le forze in campo. Grazie al Vigile del Fuoco, al capo squadra Danilo Dionisi con il quale continueremo a dialogare anche nei prossimi giorni perché saremo sempre comunque presenti sul territorio. Grazie ancora, ti restituisco la linea, a te Stefania. E andiamo invece, torniamo dal nostro Thomas del Bianco, vediamo se è pronto nuovamente per farci il punto a conclusione di quell'aggiornamento che avevamo intrapreso precedentemente. Sì Stefania, volevo aggiungere rispetto a quello che dicevo prima che oltre al lavoro che sta andando avanti qua nel centro di Cantiano, come dicevo è tornata ora, è tornata l'elettricità, è tornata l'acqua, sta tornando il gas, ma c'è molta incertezza sul futuro perché attività commerciali ovviamente sono ancora tutte chiuse, soprattutto i negozi qui nel centro storico, ma anche nella zona artigianale si contano anche lì milioni di euro di danni, quindi c'è anche l'incertezza sul futuro per le attività economiche, ma anche per il futuro strategico del paese, si teme anche uno spopolamento, siamo comunque in una piccola comunità tra Marche e Umbria e quindi ecco con abitazioni danneggiate, attività danneggiate c'è anche chi potrebbe pensare piuttosto che spendere risorse ingenti anche a lasciare il paese, questo vediamo, ovviamente tanti sperano che la comunità di Cantiano si riesca a risollevare e a ripartire tutta insieme. Un'altra notizia, la procura di Urbino ha aperto un'inchiesta per quanto riguarda l'alluvione che ha colpito qui la zona di Cantiano ed intorni, una nota che è arrivata ieri dal procuratore di Urbino Andrea Boni, un'inchiesta per verificare se l'allerta meteo nei comuni interessati dalle esondazioni dei fiumi, in questo caso per quanto riguarda Cantiano, dalle esondazioni del Burano, in che tempi si è arrivata per accertare questa situazione per quanto riguarda l'allerta meteo e anche per verificare lo stato di manutenzione dei fiumi che sono stravolgati come ad esempio per quanto riguarda la zona di Senigallia, ma in quel caso sta aperto un'inchiesta alla procura di Ancona, il Misa, invece per quanto riguarda la zona di Cantiano, il Burano, oppure per quanto riguarda la zona di Pergola che abbiamo visitato ieri, nella quale c'è stato anche un sopralluogo del capo della protezione civile Curcio, il fiume Cesano, anche quella è un'altra zona sicuramente che è stata devastata. Per il momento per quanto riguarda gli aggiornamenti dalle zone colpite alluvione della provincia di Pesor Urbino è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie al nostro Thomas Delbianco, noi ci fermiamo qui, una breve pausa e poi cambieremo totalmente argomento. Rimanete con noi a vera mattina.